Il lavoro ha già in essere delle misure importanti di aiuto sul territorio, misure come quelle di botteghe e di mestiere che sono indirizzate a aggregare piccole realtà produttive e inserire in queste piccole realtà produttive dei tirocinanti in un percorso di accompagnamento poi all'occupazione con un tasso di successo fra il 60 e il 70 per cento. Quindi vuol dire un percorso che inizia con un tirocinio ma che in larga maggioranza si conclude con un lavoro. Ha una misura specifica proprio sull'accompagnamento scolastico e sull'alternanza scuola-lavoro, quindi prendere il ragazzo quando ancora è a scuola e portarlo con percorsi di orientamento verso la giusta professione, quella che è coerente con la sua formazione. Ha una serie di iniziative come questa particolarmente innovativa con Oracle che mette insieme Regione, Italia Lavoro e l'azienda privata in un percorso di formazione di programmatori per il programma Java che però non si limita come tutte le azioni di Italia Lavoro, non si limita semplicemente alla formazione ma è sempre un percorso di accompagnamento al lavoro quindi l'impresa si impegna a trovare chi poi potrà assumere e chi assumerà avrà un beneficio fiscale e contributivo nel prendere questi ragazzi formati e certificati nelle loro competenze.